Buongiorno a tutti! Scoperto un nuovo corridoio nella grande piramide di Gize, la piramide di Cheope. Ma sarà proprio vero? E di cosa si tratterà? Andiamo subito a scoprirlo. Intanto però benvenuti o bentornati nel mio canale Centro Studi 55. È una notizia che è arrivata oggi su tutti i media. Io l'ho appresa seguendo il Tg nazionale e subito mi sono precipitato a controllare cosa riguardava. Ed ecco qui dunque quello che è stato riportato dal Tg Sky e qui si parla appunto di quello che risulta da una conferenza alla quale hanno partecipato i ricercatori che da qualche tempo stanno verificando con la strumentazione più moderna, con la tecnologia più importante, stanno cercando di capire che cosa c'è ancora da scoprire all'interno della piramide. E che cosa è risultato? Beh, è risultato che dietro all'ingresso principale della grande piramide, non quello che è stato scavato dal califo, dagli arabi, ecco, nel tardo medioevo, non quello, ecco, ma dall'ingresso principale, quello che è sempre rimasto chiuso, si è capito che ci poterà essere qualcosa di interessante e lì si è concentrata l'attenzione dei ricercatori e degli archeologi. Ma prima di passare alla visualizzazione di questo video che è stato pubblicato dai ricercatori, voglio solo ricordare che la ricerca si è focalizzata lì, in quel punto, perché lì da un'analisi termografica delle pietre, della facciata esterna, si era capito che ci poteva essere qualcosa, una consistente differenza di calore e questo indicava che dietro questi pietroni ci poteva essere qualcosa. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!